E Michele D'Alessio raccoglie l'appello di un cittadino, Michele Lombardi, al presidente Donato Toma e ai vertici dell'ASREM per migliorare quelli che sono i servizi e le modalità di accoglienza alle strutture dell'ospedale veneziale di Sernia. Ma andiamo a vedere. La scorsa settimana Michele Lombardi ha vissuto un'esperienza non bella presso l'ospedale veneziale di Sernia. Che cosa è successo? È successo che io a una certa ora avevo la febbre oltre i 38, quindi è venuta l'ambulanza e mi ha portato sotto all'ospedale al pronto soccorso. Al pronto soccorso mi hanno fatto sedere, stavo lì fuori con tutto il freddo e la febbre in attesa che mi facessero il tambone. Quindi dovrò attendere un sacco di tempo per farmi fare il tambone e in più altro tempo per ottenere i risultati. Ma il freddo era terribile, quindi c'era anche altra gente. Io voglio fare un appello al presidente Toma, ai consiglieri regionali di Sernia, all'assessore alla salute che si attivano di installare un ricovero per gli ammalati, per quelle persone bisognevoli di cure che si regolano al pronto soccorso in modo da evitare che soffrono il freddo. Quindi questa è la cosa vergognosa. Per questo motivo io sono rivolto a Tietl e Tica, la ringrazio che mi dà questa possibilità. Ma io sono incavolato nero e penso che tutti i cittadini sono incavolati. Quindi è il momento di installare un ricovero per il freddo. C'era un bambino in braccio del papà e della mamma che stavano lì ad attendere. Questo non è giusto. Quindi quello che chiedo a nome dei cittadini di Sernia, e io elogio tutti i medici di Sernia che operano bene, che lo so, però è a monte che la politica lascia un po' desiderare. Quindi anche il Presidente Iori si deve impegnare gentilmente, che è il nostro, forse uno dei migliori rappresentanti del Molise. Quindi detto questo, vi ringrazio a nome di tutti i cittadini di Sernia, però voglio vederlo perché se no vi torno un'altra volta alla carica.